Misfits Entertainment Gianmarco per un featuring più unico che raro Paruta? Pi' unico che raro, più raro che unico Ciao a tutti ragazzi e oggi questa è la intro del nuovo video Oggi dovrei fare una challenge insieme ai Misfits Entertainment Misfits Entertainment Vabbè, con loro E allora siccome dono lì qua a Ostia da me E io devo parlare con Michele perché se è partito da casa Ho deciso di fargli lo scherzone E vediamo se ci casca oppure no Lo scherzone consiste nel scrivere solo usando la composizione automatica delle parole Cioè, cosa che hanno fatto altri però questa è solo una intro Quindi solo per faccio le due risate così Vediamo dai, iniziamo così Ciao Ciao Speriamo che legge perché se non legge E crede che potreste a qui 6 ore a fare il video Ecco, online E vediamo dove ci troviamo alle ore per la porta Vediamo che risponde Oddio Bona via dove ci troviamo le ore per la porta Vediamo che ci troviamo le ore per la porta E vediamo un video Per la porta a costo del tuo browser web implica l'accezione di persone che hanno preventivamente prenotato l'assistenza speciale per la risposta di un vostro amico. Ovvero, sto cercando di capire come funziona il mondo degli annunci gratuiti. Oddio, mi sento male. Forse hai capito. Dai, sicuramente mi ha sgamato perché ha scritto ha 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 ma forse non ha capito e l'ho confuso e ora farà come un muro il basaur che si mette da solo. Non so se sia possibile. Non risponde più, non idolizza. Ragazzi, questa collaborazione è fin da prima di nascere. Ok, sto scrivendo. Ciao. 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 ti ho mandato un paio di settimane fa da padrone di lavoro e della sua vita privata non so vai via capiscilo che è uno scherzo per favore se chiedo sta intro intro più lunga del mondo eccolo cazzo mi hai sgamato ti stavo a scrivere col correttore automatico perché sto a fare la intro del video e volevo fare qualcosa di diverso ciao a tutti pubblico sono Whisperg dei Misfits stavo per prendere il treno e andare ad Ostia a fare la nostra prima collaborazione con Gianmarco Galletti ci vediamo presto non perdetevi questa challenge perché Nervi Galaxy non piace l'uva e quindi perderà già automaticamente oh dai c'è ci vediamo dopo ragazzi buona piastro bella cittina ragazzi siamo oggi qui c'ho ospiti nel mio canale proprio dentro i Misfits entertainment lo ho detto bene? entertains entertains molto un po' inglese ok tutti i famosissimi famosimi il video di ribelle e basta ribelle e basta per altri video tipo Assassin's Creed di parkour esatto che oggi c'è ovviamente in questi giorni stanno festeggiando i 700 iscritti e quindi grandi facciamoli arrivare a mille vai allora oggi faremo una challenge in cui i nostri ingredienti sono tipo molto strani abbiamo il Listerine Total Care che è il più bastardo il nostro in camera abbiamo dei limoni guarda sono limoni veri limoni veri cioè quella roba seria poi abbiamo del sale che non vi mostro per questioni di copyright esatto e un ingrediente segreto quello alla fine verrà preso e diciamo verremo sto cocktail assurdo solo per il vostro divertimento cioè è una propria resistenza bene bene ovviamente chi resiste più vince chi muore perde esatto cioè si perde solo morendo quindi è legato è però era tipo buona visione ci vediamo tra poco intanto prepariamo tutto e ci vediamo dove studiamo? qua ma come studiamo? mi cambiamo dietro davvero la stai schiacciando così? andiamo a schiacciando perché mai non me la lezzo il sangue allora come dobbiamo fare? non me la lezzo il sangue abbiamo preparato tutti gli ingredienti quindi siamo pronti a farci del male esatto allora prima di tutto si mangia un limone secondo me intanto mi cambia la maglietta mentre ti spieghi tutto come più ti conviene nel senso io lo mangio a mozzichi lui lo mangia a mozzichi loro decidono di far uscire il succo in qualche modo lui pure a mozzichi lui sta schiacciando il limone in una maniera allora fatti vedere come schiacciando ma mostra in camera come stai fai a vedere molini un olio dal 1904 allora cos'è che il limone è un olio? il limone mio è tipo gigante il mio è il più bello no no abbiamo l'acqua dobbiamo la maglietta dammi l'acqua allora questa challenge eh iniziamo a mangiare questo cazzo di limone allora intanto ognuno di noi ha un bicchiere mezzo bicchiere di Listerine un limone dentro un bicchiere per comodità e del sale del sale che verrà se te lo metti in là sicuramente quando darai il sale quando darai un mozzicotto limone ti cadrà tutto il limone dentro il tuo limone ok devo mangiare il limone poi allora mangiamo il limone poi il pizzico di sale in bocca e poi Listerine a bomba e però chi c'è il timer? io ma io non faccio il limone fino a che ne la faccio più eh io vabbè il limone cosias il gusto di limone in bocca mi viene questo faccio per te però quando andiamo in Listerine ok esatto allora siamo pronti io tu già ti ha mangiato sei un... un citer sei una merda no sei un citer è brutissimo allora questi sono limonetti quelli costano un sacco allora ragazzi senza paura tutto il limone in bocca in bocca muoro guardate non mi prega niente io mangio no no te lo giuro raga pronti a morire pronti allora il timer lo mettiamo da Listerine da Listerine ok ok questo l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta però una certa pare quasi piacevole e poi fa schifo basta manendo così off andiamo a mangiare altro moccico dei mitfit vai vai regà io ho finito il limone e poi non ci sono due ma che è la fine oddio che schifate no c'è 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 è extra buono aspetta che ha fatto? non si è rispondo nel sangue vai 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 posso Nister? aspetta devo non vincere ma sto limone è avvortivo vieni dentro il limone veloci beh regà se non sto spiegando ancora non è inizi non è stata questa morte no è veramente più forte questo scusate voi guarda ma schifo lo dico eh cazzo è cazzo è sale a me lo sto tipo cianciullato vabbè bacca va bene così dai ci vuoi essere il limone in bocca no no questo no cazzo ma i miei 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 vai questa ma dovete tenere in bocca devo mangiare? non devono ingoigliare guarda tenete in bocca il sale in bocca il sale e poi e poi lì stai insieme quindi non va ingoigliato il sale guarda sale in bocca vai aspetta a preparare il cronometro non è ma è non è non è non è non è non è un po' Ah mmmm 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 oh damn oh mmmm 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 mmmh mmmmm mmmm E' un po' l'acqua. 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 con noi volendo, scrivetelo nei commenti e ci vediamo al prossimo video e spero che sta pure la collaborazione con i mitzvizzi infrattenti nel nostro canale, quindi lo faremo recitare questo mio bacino, posso salutare? Vai, al modo mio, bye bye! Allora, ecco ragazzi, non so se vi ricordate del primo eliminato della nostra challenge Emanuele, quindi qui ha guidato naturale, ossia dove ci mangia, questa è della banda che invitiamo a tenere in mano a spesa, cosa fai? No, no, bere no, madonna, fa malissimo l'isterino, a favore di camera, una benitenza, e io bevo quello che sta facendo, è proprio il tipico per lui, cerca di uno scudà, cerca di uno Oh, ricorda che l'isterino ne fa non male di più Non è vero, no, non è vero, no, mori No, mori Però se bevi così piano, non so No, 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 vai, come devi fare? E' un uomo onesto, ragazzi, fa la casa con le penitenze Fare birra, visto da qua Vai, manca l'ultimo coccino L'ultimo coccino Ma dai, bevi, manca solo l'ultimo coccino Non puoi abbandonare così No, hai abbandonato Ha abbandonato Ragazzi, ha perso No, tu hai perso insieme a me Esatto, tu sei il secondo perdente Il perdente Si, ma il perdente sei te Un goccio o un goccio Bevi però E io direi pure il camera No, il camera non beve Dai Finisci, vai La faccia di contentezza Ciao Allora Questo è il nostro sponsor ufficiale Money Grabber Money Grabber a caso Lui è il più grande di tutti Si chiama? Gennaro Grande, Gennaro Un saluto Originale Iscrivetevi al suo canale pure Se non ce l'ha Passate da... Passate da Queen Chips Ciale Vasco de Cama 48 h Mi piace sulla pagina di Facebook Spagina di Facebook Ecco E lasciamo il link in descrizione Grazie, ragazzi Un saluto Ano Ah 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 Grazie a tutti